buongiorno e benvenuti in questo nuovo video l'aria del mattino ha iniziato a farsi più gelida, l'inverno si sta avvicinando come sapete io sono affascinata da tutto ciò che comprende la magia per cui oggi vorrei decorare l'ingresso di casa per Natale a tema magia grazie a tutti come tutti gli anni da quando siamo in questa casa prendo un rametto che trovo nei dintorni camminando tra la natura qua vicino se ne trovano tanti a terra molto carini da usare come decorazione ne ho visti nei negozi ma hanno dei prezzi spropositati a mio parere sarà che io per ogni cosa vedo il modo alternativo di potermela fare da sola grazie a tutti probabilmente non ho palline di grandezza adatta per la dimensione del rametto che ho raccolto ma cercherò di non riempirlo troppo ah ho riciclato anche il vaso che era una bottiglia di vino io sono quella delle bottiglie e dei barattoli di vetro c'è stato un periodo in cui avevo un cassettone pieno di barattoli di vetro un po' esagerato forse ma in ogni barattolo e bottiglia ci vedo un potenziale futuro un po' esagerato da amante della luna solo io ho notato che la luna in questi giorni fosse un po' esagerato così luminosa è vero nei periodi freddi il sole non illumina molto la nostra camera da letto ma la luna alla sera illumina la stanza con la sua splendida luce e poi le stelle che c'erano riuscivo a vedere chiaramente la cintura di orione mi sto avvicinando da poco all'argomento costellazioni eccetera per cui non sono esperta ma non vedo l'ora di saperne di più in questo modo mi sto avvicinando da un nacho Grazie a tutti. Sono la rappresentazione dei tarocchi in formato grande, della Luna e del Sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vi auguro un magico Natale.